Sì sì, eravamo molto vicini a portare questi tre punti a casa che stiamo sperando secondo me da veramente troppo tempo e spero che a Brescia non lo voglio dire nemmeno più perché sto aspettando questa vittoria da veramente troppo tempo. Sì, può essere un limite però sinceramente oggi dalla panchina non avevo questa sensazione che ci prendevamo gol e non deve più succedere sinceramente. Da quando ho ricevuto palla sulla tre quarti nostra sono andato con quella testa di calciare in porta perché era in velocità quindi non è che ci ho pensato tanto. Poi è andata bene, delle volte non va bene, di questo sono contento sinceramente. No va bene, sono dei movimenti sicuramente molto diversi da quello che facciamo prima e ci chiede di stare larghi per giocare anche tra le linee quindi siamo a disposizione. Tutti gli attaccanti penso che possono fare questo modulo e io sinceramente sono contento. Sì, era da tanto, in casa sicuramente ci sono andato vicino anche con due traverse e oggi come nota stra positiva mi porto questo. Secondo me il peso ci deve essere perché questa è una maglia pesante, è un campo pesante però secondo me è quello che ti fa diventare giocatore se vuoi giocare in altre categorie. Con una settimana che hai vinto comunque sei più lucido e la classifica uno dice noi non pensiamo alla classifica, non è così, questo fa parte del nostro lavoro e tutto quello che succede fa parte del nostro lavoro. Sì, sì, è quello che ci chiede il mister, è molto chiaro e quindi più di noi vanno dietro di lui più riusciamo a vincere sinceramente. Secondo me sono due allenatori forti, ringrazio il mister Mignani per quello che mi ha dato, per come mi ha accolto e ci hanno due modi come già voi sapete, uno fa il 4-3-1-2, l'altro fa il 4-3-3 però sono bravi entrambi e quindi niente questo. Grazie a tutti.